Una rissa, addirittura, addirittura, madonna, che cavolo, addirittura una rissa, scusate, prendo il telecomando dell'aria condizionata, sta facendo ora veramente caldo, cioè porca di una misera, era come quella di Cristante con De Rossi per caso, che si è detto rissa, 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 invece no, queste immagini si sono scontrati a distanza e finita lì, in allenamento funziona così ragazzi, è come un'azienda, un'attività, ci si scorna prima o poi, un po' di stress, un po' di pressioni, addirittura una rissa, va vabbè, a bestia a voi, in alto insieme per i 100.000 iscritti e qua sotto attivate la campanella per ogni aggiornamento del canale, grazie a De Coro a ognuno di voi, mi raccomando, sostenete il progetto del mio canale YouTube, via, dicevo, io l'ho parlato già oggi, non vorrebbe essere spam questo video, però sarebbe ovviamente l'immagine di una presunta rissa, non tra Teo Hernandez e Leao, ma con Fonseca, cioè, ma scusate un attimo, ma così ha la luce del sole, secondo voi questi qua vanno a scazzottarsi l'uno contro l'altro, oppure loro due contro Fonseca? Sarebbe anche un'altra ipotesi che Teo Hernandez e Leao si siano battibeccati tra loro, Fonseca per punirvi, non li fa partire dall'inizio, li mette in panchina, oppure l'ultima è che gli ha detto, quella secondo me è più probabile, ragazzi, contro i Parma, non vi ho visto in forma, bravo Leao per l'assist, ma non ti ho visto soprattutto coprire difensivamente, tu Teo Hernandez sei stato il peggiore in campo, non vi vedo in forma, va bene se partite dalla panchina, voi vi mettete in panchina, certo che è veramente vedere però la formazione, ragazzi, Terracciano sulla sinistra, segno della croce, ma i Menez tra l'altro, i Menez hanno detto Ibra, non lo convocano mai, è infortunato, sta poco bene, informati, Ho visto prima un commento, ragazzi, è infortunato, non sta bene, se no sarebbe lui al posto di Teo Hernandez, ha voglia, Love2Chic dice con segno che gli piace da trequartista, quindi c'è Pulisic al posto di Leao che torna il suo ruolo originale, anche se non lo fa da un sacco di tempo, quindi di nuovo segno della croce, Ciucuese e poi Ocafor dall'inizio, ecco vedi qua hai fatto lo stro, hai fatto lo stro puntini punti puntini, puoi mettere Camarda, vuoi avere un po' più di palle qua? Oh ma che siamo? Pioli bis davvero? Abbi le palle, quale pare di far fuori Teo Leao? Veramente ci vuole, eh, ci vuole con sei assenti addirittura, addirittura sei assenti, non c'è Morat, non c'è Imenez, non c'è Jovic, non c'è Ben Nasser, non so chi ha, ah non c'è Ciao, vabbè pure se c'è non c'è, questo ciao non fa niente, ma immagini addirittura una presunta rissa secondo me, eh, mi sembra un po' esagerato, mi ricordo proprio Cristante De Rossi, ma solo batti beccato, ditemi la vostra, va. Come è partito male questa, e le amichevoli dicevano tutt'altro